ciao raga benvenuti in questo nuovo video e bensì ok il cane e comunque oggi come avrete visto da tutti questi video di mettere promemoria, promemoria, promemoria per oggi e bensì ecco qua che venne farlo e che ho cambiato in animale avete capito bene ho cambiato animale e voi vi stai chiedendo quale 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 e bensì non voglio ricopiare nessuno ma il panda rosso adesso vi faccio anche vedere se noi cerchiamo ci sono un sacco di panda rossi troppo belli e guardate anche l'animazione ma guardate guardate che amore è un amore cioè se voi se ve lo vedete cioè guardate guardate che carino che si alza che cercherà di prendere la zucca cioè ditemi se non è carino e bensì ragazzi questo era solo per questo solo per avvisarvi ovviamente ma comunque ne parlerò molto del coniglio un sacco del coniglio e comunque nei giochi sarà tipo dragon bani qualcosa adesso il panda rosso comunque cambierò anche forse l'avatar di gacha life se ci scordiamo il nome mettiamo un dislike se ci scordiamo se ci scordiamo alcune volte il nome e si oggi sono andata anche al mare ci stavo parlando con marty e raga credo che più avanti anche ci sarà un canale di me e marty credo credo e bensì e pensi raga ciaaaaaaaaaaa